Perché noi pazzi sappiamo mescolare realtà e immaginazione E gira, 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 gira la sirena Sarà un segreto tra di noi a mezzanotte, in riva al fiume ogni sera E balla, 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 balla la sirena E anche se mi diranno di no, io sono contento perché ora lo so Che c'è una sirena nel po' Mondo, non chiamarmi che non voglio tornare E non temere, io lo so, non so nuotare Gira, 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 gira la sirena E balla, 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 balla la sirena E sono contento perché ora lo so Che c'è una sirena nel po' Ora vi parlo dell'eccellenza laziale dove abbiamo questa situazione Dopo 11 giornate L'ultima giornata è giocata il 16 novembre Il Giro Reace è Almas Roma, Grifone 1-0 Civitavecchia 1920, Nuova Sorianese, Calcio 0-1 Crecas, Città di Palombara, Fontenova 1-1 Monte Rotondo, Calcio, Ladispoli 2-2 Lear Monterosi, Fregene 2-2 Sport in Città di Fiumicino, Santa Maria della Mole Marino 1-1 Trastevere Calcio, Football Club 3-2 Vigor Acquapendente, Monte Fiascone 1-2 Villanova Calcio, Montecelio, Borussia 0-0 Comanda, argomenti due punti, Ladispoli A 20 c'è lo Sporting, Città di Fiumicino e Fontenuova A 19 Vigo Acquapendente A 18 il Trastevere con il Monte Ceglio A 17 Villanova e Crecas, Città di Palombara 16 il Nuova Sorianese E Almas Roma, 15 il Frigene Chiudono con 9 punti, Monte Fiascone, Santa Maria della Mole E 8 il Monte Rosi Passiamo subito all'eccellenza, sempre laziale Per quanto riguarda il Girone B Che siamo alla giornata Sempre all'undice prima giornata Al Balonga, Audace, San Vito e Empolitana 5-2 Borgo, Podgora, 1950 Colleferro, 0-1 Monte San Giovanni Campano Cassino Calcio, 1-1 Nettuno, Atletico Bonville-Ernica 3-1, Nuova, Itri, Morolo Calcio, 2-1 Pomezia Calcio, Città di Monturno Marina, 1-1 Sempre Viva Gaeta, 0-0 Serpentara, Lariano, 2-0 Vis Aterna, Roccaseccia, San Tommaso, 0-1 Comanda, con 30 punti, 10 vittorie, una sola confitta Il Colleferro A 23 punti abbiamo Cassino, Serpentana e Nuova Litri A 22 l'Albalonga A 20 l'Ariano A 17 Gaeta e Morolo A 15 il Nettuno Chiudono con 9 punti Vis Aterna, Audace, San Vito e Empolitana E sempre Viva A 4 punti l'Atletico Bonville-Ernica Andiamo allora immediatamente a vedere un'altra regione Che troviamo, cerchiamo sempre, diciamo, sempre qui nel centro, diciamo, più sud del centro Italia Andiamo in Puglia, andiamo a vedere la situazione dell'eccellenza pugliese Un solo girone dell'eccellenza pugliese Girone A, chiaramente Abbiamo Atletico Mola Mola, Nardò, Sciama, la decima giornata Atletico Mola, Nardò 1-1 Bitonto, Vigortrani, 1-1 Elastarant, Ostuni, 0-0 Libertas, Smolfetta Casarano, 2-1 Nuvoli, Castellaneta, 1-2 Pro Italia Galatina, 0 Scusate, Pro Italia Galatina Sporting Altamura, 0-2 Sud-Est, Ascolis, Satriano, 1-2 Virtus Villafranca Atletico Vieste, 1-2 Comanda l'Atletico Vieste con 25 punti Seguono a 22 punti il Vigortrani A 15 il Nardò A 18 lo Sporting Altamura A 17 il Mola 16 il Mola 15 il Virtus Francavilla A 13 il Nuvoli Insieme al Bitonto 12 Castellaneta 10 Casarano Chiude con 6 punti il Sud-Est A 2 il Pro Italia Galatina Ora ci spostiamo subito In un'altra provincia Dell'Italia Del Sud E andiamo A vedere Cosa succede In Sicilia Vediamo Cosa succede Nel campionato Di eccellenza Siciliano Dove abbiamo Ben due gironi Andiamo subito Col girone A Siamo all'undicegima giornata Alcamo Monreale 2-0 Atletico Campofranco Serra di Falco 1-0 Mazzara Calcio Camarat 0-1 Paceco 1976 Porting Club Marsala 1912 1-2 Parmonval Datilo Noi 1-0 Profavara 1984 Riviera Marmi Costanici 1-1 San Giovanni Gemini FC Ribera 2-0 San Caldese Mussomeli 1-0 Comanda con 24 punti Il Mazzara A 22 Il Marsala A 20 Parmonval Riviera Marmi Costanici 19 L'Atletico Campofranco 15 Mussomeli Scusate 19 Atletico Campofranco E Mussomeli A 18 L'Alcamo A 15 San Cataldese Profavara A 15 Camarat Chiudono Con 4 punti Il Paceco Un solo punto Per il Monreale Andiamo Scusate Per questo ingrippo Sul Questo San San Cataldese Non è difficile A dire Ma io Sono una bestia Girone B Andiamo subito A vedere Per quanto riguarda Girone B A Cireale Città di Rosolino 1-0 Catania San Pio X Città di Vittoria 0-2 San Pio X Andò in finale Per andare in Serie D Città di Scorcia Tormina 2-0 Città di Siracusa Castelbonese 2-1 Igea Virtus Barcellona Città di Messina 0-0 Modica Calcio Giarre 3-0 Paternò Sporti Via Grande 1-1 Che vede Questa classifica Dopo 11 giornate C'è comunque Una squadra in più Ha riposato Lo Sport Soccer Milazzo 1937 Dopo 11 giornate Diverse squadre Ormai hanno Già riposato Abbiamo il comando Città di Vittoria Con 21 punti Che però Ha 11 partite Seguita A 20 punti Con 10 partite C'è Città di Scorcia E lo Sport Soccer Milazzo A 18 Città di Siracusa 16 punti Per il Castelbonese 15 per Catania San Pio X Igea Virtus Barcellona E Sport In Via Grande 14 Modica Cireale 12 Giare Chiudono In fondo La classifica Il Tormina Con 7 punti A 10 Curate A 5 punti Il Paternò 1908 Entrambi hanno avuto Un punto di penalizzazione Come città Di Siracusa Andiamo a vedere Cosa Cosa ci dice L'eccellenza In Sardegna Vediamo Di trovare Subito La classifica Per quanto riguarda La Sardegna Abbiamo Questa Questa situazione L'eccellenza Sarda Un girone Un girone A Questi risultati Domenica scorsa Che si è toccato Il dodicesimo turno Ploaghe Ghilarza 2 a 0 Alghero Calangiano 0 a 3 La Palma Latte dolce 0 a 1 Porto Corallo Taloro Gavoy 0 a 0 Porto Torres Lanusei 1 a 4 San Luri Muravera 2 a 3 Socioculture Castiadas Castiadas San Teodoro 3 a 1 Tortoli Castel Sardo 4 a 2 Villa Doria Fertiglia Fertiglia 3 a 1 Per l'agressivo che vede al comando Dopo 12 tornate Lanusei con 30 punti Seguita 25 dal Ploaghe 24 Latte dolce Che l'anno scorso Per il processo della serie D A 23 Muravera 22 il Socio Cultura Castiadas A 21 San Teodoro Castel Sardo A 19 Taloro Gavoy A 18 Porto Corallo A 16 Tortoli E Ghilarza 13 Villa Doria Chiude A 7 punti Con 10 punti In San Luri 7 punti Il Calangianus E 0 punti L'Alghero 1945 Adesso non vorrei Che lo stesso Alghero Che qualche anno fa Contrastò L'Angolana Per andare In Lega Pro E ora si trova In fondo La classifica Dell'eccellenza Sarda Ha perso 3-0 In casa Con il Calangianus Chiude La classifica Le città Niente Questo è quanto Vi raccontato Per quanto riguarda Un approfondimento Dell'eccellenza Per i gironi Del centro-sud Ecco il terzo intervento Che vado a fare Un giro veloce Su tutte le regioni Che restano Da commentare Andiamo a vedere Subito Partiamo immediatamente Sul Per quanto riguarda L'Alto Adige Abbiamo Vi do Una carrellata Partendo subito Un punto Sulle classifiche Che ci sono Attualmente Risultati Domenica Allora andiamo Colchiese Bosner 0-1 Comano Terme Flavie Arsenal 2-1 Eppan Termeno Termeno Tramin 1-3 Fersina Pergine Alenze 0-1 Solo Salorno Raiffeisen Levy Coterme 4-1 Sporting Sant Giorgen Lavis 2-0 San Paolo Brixen 0-2 Virtus Don Bosco San Martin Passaglier 2-0 A comanda Dopo tre giornate Al comando Con 32 punti C'è lo Sporting Sant Giorgen 10 vittorie 2 pareti E una sola sconfitta 26 gol E 9 subiti Segue con 27 punti Levico Terme 24 Virtus Don Bosco 23 Alenze Chiudono 11 punti San Paolo A 9 Salorno Raiffeisen A 1 Fersina Pergine Andiamo a dare un'occhiata Andiamo a dare subito Un altro girone Mi scuso con gli amici Della Calabria Che prima Ho dimenticato Di commentare La Calabria Lo vado a fare Lo vado a fare Immediatamente E andiamo a commentare Il girone Di violenza calabrese Branca Leone Isola Capo Rizzuto 0 a 0 Corigliano Schiavonea Schiavonea Taurianese 3 a 2 Cultro Sersale 2 a 2 Guardavalle Castro Willeri 0 a 1 Palmese Calcio Acri 2 a 1 Paolana Calcio Gallico Catona 0 a 1 Sambiese Ramezia Boccale Calcio 1 a 1 Scalea Vibonese 0 a 1 Siamo alla decima giornata Comando c'è la Palmese Che ha 28 punti 9 vittorie Un pareggio 23 gol Fatti E 6 subiti Segue a 21 Calcio Gallico 20 il Vibonese 18 Cutro Isola Capo Rizzuto 16 Calcio Acchi 14 il Castrovilli 13 Paolana Chiudono Con 8 punti 9 punti Corigliano 8 Brancaleone Guardavalle Boccale Taurianese Concetto Il Consetto San Biese Andiamo subito A vedere Un'altra Regione Abbiamo appena Parlato Della Calabria Adesso Ho un problemino Per riuscirmi A rimettere In carreggiata Con le varie Regioni Ora parliamo Dell'Emilia Romagna Che L'Emilia Romagna L'eccellenza Sono due gironi Andiamo subito A vedere Il girone A Queste sono le squadre Bagnolese San Michelese 1 a 1 Bibiano Carignano 0 a 2 Castelvetro Colorno 2 a 2 Crociati Nocete Pallavecino 2 a 1 Fidentina Axis Salsa 1 a 2 Fiorano San Felice 2 a 1 Folgore Ribiera Lentigione 1 a 1 Rolo Casalgrande 3 a 2 Salsa Maggiore Calcio Meletolese 1 a 0 Comando Dopo tre Ci giornate Ci sono Bagnolese E Rolo Entrambi in battute Con 8 vittorie 5 Pareggi La Bagnolese Ha fatto 22 gol E 8 subiti Il Rolo 16 subiti 7 Seguono Con 23 punti San Michelese Lentigione 22 il San Felice 20 la Fidentina 19 il Castelvetro Chiudono A 10 punti Ricorsati Noceto 9 il Carignano 6 il Bibiano Andiamo a vedere Subito Il girone B Per quanto riguarda L'eccellenza Emilia Romagna E abbiamo Questi risultati Domenica Centese Copparese 01 Faenza Consilice 3 a 0 Noceto 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 Grazie a tutti